Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video spiego come risolvere il problema riguardo alla dimensione del carattere sul documento di testo quindi in questo caso se ti ritrovi con il documento di testo con questo carattere bello grande che non riesci neanche a scrivere niente qua sopra perché è troppo grande quindi se andiamo direttamente su modifica vai direttamente sul tipo di carattere scende fino al giù fino a trovare dimensioni come puoi vedere è impostato su 72 e tu qua puoi mettere il 12 oppure puoi mettere il 16 quindi torno indietro ed eccolo qua ciao a tutti quindi se questo video, questo piccolo tutorial ti è stato utilissimo su come cambiare così la dimensione del carattere sul documento di testo iscriviti, legge like e ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao